Marina, dopo tanto lavoro arriva l'appuntamento clou di questa prima parte di stagione, il mondiale per club, una bella emozione e un grande impegno. Sì, assolutamente, era uno dei nostri obiettivi fin dall'inizio insieme alla Supercoppa e sarà il mio primo mondiale per club, quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di iniziare. Insomma, tutto il lavoro che abbiamo messo in campo fino ad adesso speriamo di portarselo dietro in Turchia. Ecco, ci arrivate sulla scia di un grande inizio di stagione con tante vittorie. Sì, sì, assolutamente, siamo riusciti a trovare una coesione abbastanza in fretta per quanto comunque non ci conoscessimo molto e su questo sono molto contenta e quindi spero che tutte queste partite ci abbiano aiutato a dare fiducia e di metterlo tutto in campo in Turchia. In Turchia ci saranno tutte le migliori giocatrici del mondo, praticamente, palazzetto strapieno, grande seguito, un evento di una settimana dove si respira proprio l'aria, l'aria della crema della pallavolo come avete già vissuto voi recentemente al mondiale. Sì, sarà molto molto intenso e sicuramente ci aspettano due partite all'inizio, speriamo di più e questo pubblico io credo che ci potrà solo caricare per quanto anche contro, quindi non vedo l'ora di andare lì e dare il meglio di noi. E i Pantare vanno per vincere? Certo, come sempre. Certo, come sempre.